Con il coordinatore cittadino Gabriele Belfiore per quanto riguarda Forza Italia Giovani di Corrotone vogliamo parlare di quella che è la situazione attuale della nostra città, come la volete interpretare anche alla luce delle varie vicende, delle varie situazioni che si stanno evolvendo sia in positivo che in negativo? Bene, come noi guardiamo attualmente la città oggettivamente non ci piace, ovvero dopo un anno di amministrazione pugliese abbiamo visto all'inizio un fomento, c'è tanto rumore per nulla come diceva Shakespeare, ma adesso appunto dove ci troviamo appunto nella stagione estiva e diciamo la nostra città fa acque da tutte le parti letteralmente si potrebbe anche dire. Quello che noi vediamo appunto possiamo dare un primo sguardo nella nostra zona turistica per eccellenza come potrebbe essere il lungomare che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Crotone proprio in questa stagione ma viene lasciata abbandonata quasi a se stessa e non bisogna guardare molto lontano per trovare condizioni esattamente contrarie, ci si può spostare qua vicino nei paraggi intorno a Ciro o in altre zone marittime della costa Ionica per vedere che il territorio può essere valorizzato e può essere davvero un punto di forza per l'economia di un territorio. Crotone potrebbe vivere di turismo ma in realtà diciamo sta sprofondando anche quel poco che c'era di turismo, perché le persone comunque già scoraggiate da difficili mezzi di trasporto che ormai rendono Crotone quasi impossibili da raggiungere anche una volta che arrivano trovano una città in un pessimo strato con strade trafficate quando si potrebbe avere una viabilità molto molto più leggera e veloce. Quindi assolutamente quello che noi vediamo in Crotone non è la Crotone che vogliamo, noi vogliamo un'altra Crotone perché Crotone merita di più anche per un futuro per noi giovani. Ecco, visto che siete abbastanza attivi da diverso tempo, come intendete muovervi? Allora, noi sì abbiamo portato avanti il nostro primo anno di coordinamento qui a Crotone, un anno secondo me bellissimo, che ci ha fatto crescere sia come ragazzi che come ragazzi in politica, ma che ci ha anche fatto conoscere la nostra città e i nostri cittadini. In un anno abbiamo visto tante cose, abbiamo incontrato tante persone, abbiamo lanciato tante iniziative, ma ovviamente bisogna guardare sempre avanti. Quindi a breve quello che lanceremo sarà un progetto credo davvero bellissimo che si chiama Ascoltiamo Crotone. Noi vogliamo essere in un certo senso un filo conduttore tra l'amministrazione e i cittadini, perché se esiste un partito, se esiste la politica, se esistono giovani che vogliono fare politica, è perché appunto vogliono ascoltare i cittadini, perché è la nostra ragione per la quale siamo in campo, cioè noi vogliamo ascoltare i cittadini e modellare la città sull'esigenza dei cittadini. Quindi Ascoltiamo Crotone consiste in una sorta di sportello, di ascolto per tutti i cittadini, attraverso un ricevimento presso la nostra sede, attraverso mail, oppure potranno scriverci su Facebook o su qualsiasi social, o anche lasciando una lettera, un messaggio, presso appunto la nostra sede, dove metteremo fuori una castella della posta, dove appunto potranno essere ricevute qualsiasi segnalazioni, problematiche e saremo lì ad incontrare i cittadini e qualora le problematiche potranno essere affrontate su temi amministrativi andranno direttamente in consiglio comunale attraverso i nostri consiglieri. Quindi significa noi ascoltiamo il cittadino, portiamo quello che il cittadino dice in consiglio comunale, perché credo che sia la cosa giusta che debba fare un partito poi in una città come Crotone che ha bisogno dell'amore dei cittadini più che dei politici che stanno in giunta comunale. Per quanto vi riguarda, visto e considerato anche la vostra giovane età, siete già pronti politicamente anche ad affrontare eventualmente delle competizioni elettorali? Nel senso che vi spiego, avrai un'età e si vede dal viso che sei abbastanza ragazzino ancora, però sei già abbastanza predisposto all'idea di poter partecipare a confrontarti anche con gli altri politici. Sei pronto? Nonostante ci sia il fatto anche da attendere qualche anno, visto che questa legislatura si è insediata da un anno soltanto. Io credo che quello della politica sia un percorso che vada affrontato con calma, con esperienza, ma che a un certo punto è necessario mettersi alla prova, perché fa parte di un percorso di crescita. Si può essere troppo giovani, però c'è anche uno spazio ancora, come ha detto lei, per crescere. Quindi a rispondere a questa domanda diciamo che lasciamo rispondere il tempo. Certo è che sicuramente alle prossime elezioni comunali ci saranno i giovani di Forza Italia tra le liste, perché quello che è un'esperienza giovanile deve poi tramutarsi in realtà nei fatti, perché comunque si può parlare, si possono dire tante cose, però bisogna mettersi alla prova e mettere alla sfida se stessi, è quello che si può fare, poi come quello che è il nostro ruolo comunque al servizio dei cittadini. A livello nazionale sembrerebbe esserci un ritorno di Berlusconi anche nelle semplatie degli italiani. Sì, il trend positivo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Dalle realtà calabresi dopo la grande vittoria di Sergio Abrama a Catanzaro, così come tutto il resto del paese, abbiamo rivisto il ritorno del centrodestra, in particolare il ritorno di Forza Italia, che da partito di minoranza sta acquisendo giorno dopo giorno percentuali importanti, che lasciano intravedere comunque un futuro più che ottimo per questo partito, sia a livello nazionale, regionale e locale. Anche qui a Crotone abbiamo visto l'insediamento del nuovo coordinatore Sergio Torromino, quindi sicuramente è un partito in crescita e i trend sono i migliori che si possono spiccare comunque per un partito. Parliamo del campus giovani che si terrà ai primi di settembre. Dove? Allora, i primi di settembre, l'1-2 e il 3 settembre, precisamente, ci sarà a Giovinazzo il campus dei giovani di Forza Italia, organizzato da Maurizio Gasparri e dal suo staff, ormai da parecchi anni, che raccoglie i giovani presenti appunto da tutta Italia. Saremo riuniti per parlare di politica, per parlare del nostro partito, per affrontare le problematiche e dare delle risposte a quelli che sono i problemi delle città di provenienza dei vari ragazzi e non solo, ma anche di tutto il territorio nazionale. Diciamo che Forza Italia Giovani è cresciuto molto, anche dal punto di vista politico, si propone in maniera molto professionale e competente. Sì, certo, Forza Italia Giovani possiamo dire ad oggi sia il primo movimento giovanile a livello nazionale e appunto una squadra, possiamo vantare una squadra competente, una squadra di ragazzi capaci che operano su tutto il territorio nazionale, copriamo tutte le regioni e tutte le province d'Italia, ma la cosa più bella appunto è la parola giovani, vedere questi ragazzi che si impegnano per il proprio territorio, portano avanti degli ideali puri e lavorano per il bene del paese e delle proprie città. Anche i giovani di Crotone molto attivi sotto tanti punti di vista, in particolar modo per loro togliere dall'isolamento Crotone, è questo quello che voi volete? Certo, certo, certo. Su Crotone abbiamo ormai da due anni, da un anno e mezzo a questa parte, un gruppo di ragazzi, un bel gruppo con ragazzi vogliosi che operano e lavorano per il territorio. Certo Crotone vive una situazione, come hai detto siamo un po' isolati, è brutto da dire, ma è così, le infrastrutture non esistono, non abbiamo l'aeroporto, non abbiamo una stazione. Quando arriviamo a Sibari, io vivo a Roma, purtroppo sono dovuto scendere a Crotone in macchina, da Sibari a Crotone per circa 200 chilometri, non abbiamo un minimo di autostrada, ma strade degradate che fanno sì che questa città resti isolata e questo non è giusto. E appunto la squadra, il gruppo di Crotone, sta cercando di presentare queste problematiche, di farle presenti per trovare delle soluzioni e affrontare i problemi. Torniamo ad Everest 2017, ci sarà anche il presidente Berlusconi? Beh, molto probabilmente, direi così, ci sarà anche il presidente Berlusconi. Quindi significa che c'è un rapporto diretto e la voglia anche di avere come punto di riferimento lui e di seguire i suoi consigli? Certamente, certamente il presidente Berlusconi è molto vicino al movimento giovanile, è sempre al nostro fianco e la voglia di seguire i suoi consigli, certo è lui il nostro leader ed è lui il nostro punto di riferimento. Si partirà anche da Crotone o dalla Calabria? Si partirà dalla Calabria con un pullman che raccoglierà i giovani calabresi, farà varie tappe per poi partire tutti insieme verso Giovinazzo e stare lì tutti insieme per questa bellissima esperienza. Un autunno diverso quello che inizia per Forza Italia, secondo te? Diverso, speriamo di sì, speriamo di sì perché Forza Italia è vero, ha avuto dei momenti bui, ma adesso parole del presidente Berlusconi di questi giorni è tornato in campo, ha voglia di fare, ha detto che Dio e i chirurghi gli hanno ridato la forza di un tempo, quindi è pronto, starà al nostro fianco e con la sua guida tutta Forza Italia è pronta ad arrivare ai massimi storici. Quindi c'è entusiasmo? C'è entusiasmo, entusiasmo e tanta voglia di fare. Tu credi che il centrodestra in questo momento si sta ricompattando in qualche modo per guardare alle prossime politiche o come al solito poi magari si dividerà? Beh, io credo che il centrodestra unito sia competitivo e il centrodestra unito vince, quindi spero e credo che il centrodestra vada unito, però direi che i traditori, permettetemi di dire, possono stare al posto loro e il centrodestra unito per chi merita. Grazie.